Sì, mamma, guarda come è tutto questo, con un passato, con tutti i sassi, per costruire il cioccolato. I sassi più freschi quando andrò, non so come facciamano. E voce sia c'è davvero alto. C'è un po' di più? Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.